Vabbè oggi avete portato a casa tre punti, una partita che non è stata facilissima. Sì, non è stata facilissima, lo sapevamo perché comunque loro giocano bene, hanno pazienza, hanno un buon cambio palla e quindi sapevamo che sarebbero stati lì fino alla fine. Quanto è stata emozionante fare il giro con la Coppa Italia, fare il tempo della pallavolo? Ma è molto emozionante perché appare la mia prima Coppa Italia, poi insomma io sono proprio di Modena, sono un modenese quindi vincere una Coppa qui a Modena giocando nella squadra della mia città è sempre bellissimo. Quindi fino alla fine? Avanti gialli!